Si ripete l'iniziativa già avviata con successo nel febbraio scorso dal Lions Club di Capodorlando con una giornata interamente dedicata allo screening e alla prevenzione delle più comuni patologie visive con visite oculistiche gratuite. L'unità mobile oftalmica messa a disposizione dall'associazione con a bordo l'equip medica composta dal dottor Calogero Sindoni e dalla dottoressa Concetta Briguglio, dal dottor Libero Ragona e dal dottor Filippo Cangemi, questa mattina dalle 9 alle 12 è stata a servizio dei piccoli studenti paladini dell'istituto comprensivo Mancari in via Roma. che hanno potuto beneficiare di controlli mirati, mentre nel pomeriggio l'unità ha stazionato in Piazza Matteotti a disposizione dei cittadini orlandini che hanno deciso di aderire all'iniziativa. Si rinnova l'appuntamento con la prevenzione anche oggi. Si tratta di uno screening che ha lo scopo sostanzialmente di sensibilizzare la popolazione ad eseguire delle visite oculistiche preventive sia per quanto riguarda i disturbi della vista che le malattie dell'occhio in genere. Stamattina siamo stati alle scuole elementari, oggi pomeriggio siamo in Piazza Matteotti. Lo scopo è quello di prevenire i disturbi della vista, se è possibile. È un'iniziativa molto importante perché ci ha permesso di dare un servizio alla collettività. Stamattina abbiamo visitato diversi bambini, alcuni affetti da miopia, altri da stigmatismo. Ci sono ancora dei casi di occhio pigro, la famosa ambliopia, cioè la diminuzione dell'acuità visiva da un occhio non legata a disturbi anatomici o organici, qualche forma di strabismo. La statistica dice che purtroppo negli ultimi 10-15 anni c'è stato un incremento della miopia e sembra che una delle cause responsabili di questo aumento sia l'utilizzo di questi dispositivi elettronici molto diffusi nei bambini e anche i famosi videogiochi. Per cui l'appello viene rivolto soprattutto ai genitori di limitare l'uso di questi strumenti perché purtroppo provocano questi effetti secondari. Si consiglia anche di portare i bambini almeno un'ora al giorno fuori, all'aria aperta, perché stimolando la parte periferica del campo visivo si migliora l'acuità visiva e si evita quindi il sovraccarico centrale della retina. Un'alimentazione sana, ricca di fibre, ricca di frutta, verdura, vitamina A, betacarotene e luteina sicuramente aiuta molto nella funzionalità della retina e quindi di conseguenza nella funzionalità visiva.